buongiorno a tutti ragazzi dunque donatore caprio ha parlato a porta a porta nella serata di ieri il video ragazzi non lo posso mettere qui su youtube essendo appunto un'esclusiva della rai ma farò in modo di poterlo mettere anche un pezzo sul mio profilo tiktok per cui vi consiglio di andarmi a seguire in descrizione di questo video vi lascio il link di riferimento a quanto pare l'iniziata con lei che adesso si trova comunque detenuta perché il pm ha convalidato il fermo al carcere di pozzuoli tale stefania russo lillo pare abbia agito in realtà almeno per le dichiarazioni che ha lasciato donato per gelosia per il successo di quest'ultimo ottenuto su tiktok per il seguito e quanto altro quanto pare proprio l'impulso per ovviamente motivi nonché futili che anche questo motivo futile pare sia stato comunque questo l'oggetto dell'omicidio dietro ovviamente un improvero banalissimo nella madre quindi ragazzi vi consiglio di seguire questa vicenda se non volete farlo sul mio canale seguite i canali ufficiali seguite altre piattaforme ma rimanete connessi perché sicuramente un'inchiesta che farà tanto tanto rumore soprattutto per chi utilizza i social in modo lavorativo vi auguro una bellissima giornata e ancora tante condoglianze massima vicinanza a donato